Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video interattivo, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi andremo a fare un video che ha per titolo cosa sta per accadere. Abbiamo sempre due varianti, la prima con la pietra azzurra e la seconda con la pietra rosa. Vi chiedo di scegliere una variante più specifica che rappresenterà ciò che vi sta per accadere e se vi fa piacere di ascoltare anche l'altra perché essendo un interattivo ed essendo visto da tantissime persone dovete semplicemente prendere ciò che risuona con la vostra situazione e ripeto sempre che può abbracciare qualsiasi settore della vostra vita, lavorativo, sentimentale, familiare, di amicizie e di lasciare andare il resto, ciò che non risuona con voi perché quello che non va bene per voi sicuramente andrà bene per qualcun altro che sta ascoltando. Andiamo a vedere subito cosa ci dicono le carte per la variante numero 1 per coloro che hanno scelto la pietra azzurra. Innanzitutto, prima di ciò, volevo dividere il mio mazzo degli oracoli che ricordo sempre sono in vendita all'indirizzo che trovate giù nelle info per chi fosse interessato. Andiamo subito a dividere i due mazzi in due mazzi. Questo sarà per la prima variante e questo per la seconda variante. Perciò andiamo a vedere subito cosa abbiamo. Respirare Respirare abbiamo sicuramente un'energia che ci porta ad essere più, come dire, appazientare, ad essere più in uno stato di benessere, di meditazione, respirare, cioè fermarsi e riflettere. La carta vi suggerisce di meditare, di andare piano, di non essere troppo impulsivi, di non essere troppo precipitosi nelle scelte che dovete fare. Sicuramente di avere un attimo di riflessione su quello che è, diciamo, l'argomento che più vi preme. Allora qui abbiamo, voglio dire, abbiamo una riflessione per quanto riguarda la stessa ci parla di questioni di cuore. Questi ori di cuore che possono sia rappresentare il settore sentimentale ma possono rappresentare anche le amicizie, la famiglia e possono rappresentare anche tutta la passione, tutta l'enfasi che ci si mette nel lavoro, in un hobby, in uno sport, in qualsiasi settore. Le carte vi suggeriscono di aspettare un attimo, di respirare prima di prendere una decisione perché qui ci parla di una situazione che sta per arrivare nella vostra vita che è una situazione che magari voi aspettavate da un po' di tempo, una situazione che magari avete sempre desiderato o state attendendo da tempo. Questo vi porta a credere, credere che in questo momento di, come dire, di afflizione, di malinconia, perché qua ci parla anche di malinconia, di magari c'è stata un po' di superficialità, ci sono stati degli intrighi, c'è stato un qualcosa che vi ha fatto fare un passo indietro e vi ha fatto preferire rimanere da soli. Sicuramente qui abbiamo a che fare con un dispiacere, un dispiacere che è arrivato nella vostra vita legato a qualcosa che proprio vi ha, fra virgolette, ferito. Quello che sta arrivando in questo momento, quello che vi dovete aspettare, è un qualcosa di sorprendente, un qualcosa di sbalorditivo che magari non vi aspettate. Infatti le carte dei messaggi vi dicono sono in pace con la mia età. Ogni età porta con sé gioie ed esperienze speciali. Ho sempre l'età giusta per il momento in cui mi trovo nella vita. Posso cambiare gradualmente la mia frequenza vibrazionale. Non c'è pensiero che non puoi fare, come non c'è luogo che non puoi raggiungere dovunque ti trovi, ma non puoi fare allo stesso tempo un pensiero che possiede una frequenza vibrazionale molto diversa da due pensieri abituali. Cioè tutti i pensieri che voi state facendo e che andrete a fare sono sempre in linea con il vostro modo di essere, con il vostro modo di pensare e di fare. Questo è vero che vi porta ad essere sempre in pace con la vostra età. Cioè voi vi sentite sempre nel posto giusto o al momento giusto. E questa è una grande cosa. Solo che c'è questo evento nella vostra vita che va un pochettino traumatizzato, un pochino destabilizzato. Questo, al di là di quello che è successo, vi ha portato a pensare, vi porta a pensare e a riflettere alle delusioni, agli intrighi che ci sono stati, alla malinconia che, diciamo, è scaturita da questa forma di instabilità e di disorganizzazione che è venuta fuori. Però quello che vi posso dire è che questo evento straordinario che sta per accadere, sia l'evento che vi è stabilizzato è stato straordinario, cioè non ve l'aspettavate, ma anche quello che sta per accadere è un evento che, diciamo, è molto molto fortuito. Adesso andiamo a vedere cosa ci dicono gli oracoli. Allora, quello che vi posso subito dire è che appunto c'è una forma di confusione appunto per quanto riguarda la situazione che porta ad avere dei sentimenti in questa situazione, cioè tutte le emozioni che questa situazione vi ha scaturito vi porta a una confusione, però di controparte vi porta anche ad essere in un momento in cui volete agire. Infatti l'illusione ha creato questo conflitto e di fondo in contrapposizione appunto, come diceva la carta del respirare, vi ha portato come una calma che voi non vi aspettavate. I silenzi che si sono creati, il litigio che c'è stato, ha creato in voi una forma di calma e di senso di meditazione che in questo momento vi ha portato a una forma di stabilità, anche se è una stabilità strana, perché molti possono dire ma come un evento traumatico, cioè un litigio, confusione, conflitto, vi porta poi ad avere un senso di stabilità? Sì, la quiete dopo la tempesta si suol dire e perciò questo vi ha portato adesso ad avere una forma di stabilità. È come se voi aveste trovato un equilibrio dopo quello che è successo. Adesso andiamo a vedere cosa ci dicono i nostri tarocchi per quanto riguarda questa situazione, se ci dice ancora qualche altra cosa. Qui abbiamo l'arrivo di situazioni che cambieranno la situazione attuale sicuramente. Appunto c'è stata questa forma di tradimento, di disillusione che vi ha portato ad essere, come dire, a capire realmente che la persona o la situazione di cui voi vi fidavate non era talmente affidabile come si presentava. Ciò vi ha portato a prendere una decisione, una decisione che voi avete preso appunto per far cessare tutta la sofferenza che vi ha procurato. Questa sofferenza che vi ha procurato voi avete cercato di, diciamo, ucciderla, di farla terminare appunto mettendo in atto questa forma di calma e di tranquillità che ha portato poi a questa condizione attuale che voi state vivendo. Vi porta anche ad essere, vi porta ad essere più riflessive, vi porta ad essere ben guardinghe, subito pronte a superare qualsiasi ostacolo perché già ostacoli pesanti ne avete avuti da superare, vi ha portato ad avere sulla vostra bilancia due forze e vi ha portato ad essere come dire più saggi e più consapevoli di quello che volete e qualsiasi cosa andrà a nascere perché c'è la nascita di un qualcosa che potrebbe essere una conoscenza, un nuovo rapporto che potrebbe essere anche lavorativo, di amicizia, qualche evento straordinario in famiglia vi porterà a un qualcosa di nuovo dove voi magari in un primo momento sarete un pochettino diffidenti perché appunto dopo la delusione, dopo la calma che siete riusciti a ottenere dentro di voi, questa calma che in apparenza vi fa vedere tranquille, serene, molto riflessive, ma all'interno voi siete abbastanza abbastanza guardinche, abbastanza pronte alla difesa e pronte ad attaccare. È una forma di difesa che io non la reputo sbagliata perché in questa forma di riflessione, in questa forma di meditazione si può non solo trovare un compromesso con la sofferenza, ma anche trovare tanti spunti per poter avere un qualcosa di nuovo e poter giudicare le nuove situazioni in modo molto più razionale e molto più obiettivo. Bene, prima variante, questa è la vostra stesa. Se vi è piaciuta e se vi ritrovate soprattutto vi aspetto nei commenti, io passo alla variante 2. Eccoci con la variante numero 2 per chi ha scelto la pietra rosa. Vediamo l'energia. Felice, felice. E qui abbiamo persone che sembrano abbastanza soddisfatte di quello che hanno ottenuto fino adesso. Gioia, soddisfazione, soprattutto senso di realizzazione e diciamo tutto procede per il meglio. Vediamo un po'. Eh, ma qui abbiamo proprio una bella coppia qua, eh. Qui abbiamo proprio una bella coppia, una bella coppia che potrebbe essersi appena formata, potrebbe anche formarsi a breve. Stiamo parlando di una coppia sia a livello sentimentale con il cane sia a livello di amicizia, una conoscenza a livello familiare, una conoscenza nuova anche nell'ambito lavorativo. Questo porterà non solo ad ampliare la vostra conoscenza, non solo sarà un ampliamento delle vostre conoscenze, ma io penso che all'inizio ci potrebbe essere o una bellissima amicizia fra questi due soggetti o anche un sentimento un po' più forte che è appunto basato sulla fiducia reciproca e sulla fedeltà. Qui abbiamo due carte molto belle che ci portano appunto a far vedere una coppia diciamo dove lui protegge lei perché lui è sempre un passo avanti a lei perciò ha quella quell'indole di volerla proteggere. Abbiamo lei molto tranquilla e serena perché riesce riesce appieno a realizzare i suoi desideri e diciamo ad intraprendere tutto quello che sono le sue passioni o il suo lavoro e abbiamo in concomitanza con la prima carta questo senso appunto di protezione che c'è fra queste due persone. Lascio andare tutti i dubbi e le paure. Ora scelgo di liberarmi delle paure e dei dubbi distruttivi. Mi accetto e creo pace nel cuore e nella mente. Sono amato e al sicuro. il benessere totale è la base del mio universo. Il benessere è la base di tutto ciò che è. Fluisce verso e attraverso di te. Devi solo permettere che ciò accada come l'aria che respiri devi solo aprirti rilassarti e attrarlo dentro il tuo essere. Qui abbiamo sicuramente una situazione che ci porta a farci pensare che uno delle due parti ha avuto un'esperienza un po' negativa che si era chiuso che si era ritirato in una sorta di non voler più avere a che fare con le altre persone e con altri soggetti a livello proprio interpersonale però vi posso dire che questa conoscenza vi porterà di nuovo a ricredervi e ad aprirvi verso questa nuova persona che vi trasmetterà e tutto quello che vi trasmetterà sicuramente sarà proprio tutto quello che pensa non ci sono maschere non ci sono sotterfuggi non ci sono doppi sensi non c'è niente di tutto ciò qua è proprio una sorta di liberazione che proverete quando conoscerete o se avete appena conosciuto questa nuova persona o situazione appunto qui abbiamo una sorta di collaborazione in modo che riusciate a capire che quello che avete vissuto è stata un'ingiustizia è stato un amore malato cioè voi sicuramente avete passato una situazione dove avete avuto un amore tossico un amore che non una situazione tossica per voi e giustamente voi la vedete come un'ingiustizia perché è sempre così però insieme alla collaborazione di questa nuova conoscenza che ripeto può essere sentimentale può essere di amicizia familiare anche lavorativa con questa collaborazione che si sta per instaurare o si è appena instaurata riuscirete a trovare un po' di sollievo quello che vi posso dire è di diciamo dare un pochino retta di più all'intuito se l'intuito vi dice che avete bisogno di più tempo assecondatelo se l'intuito vi dice che avete bisogno di una pausa una pausa però molto tranquilla vedete il soggetto come è tranquillo non è un arresto non è un fermo è proprio una pausa una pausa che lei si prende per pensare per meditare per rilassarsi il vostro intuito vi guiderà verso quella che sarà la decisione più giusta magari avete bisogno più di tempo oppure è passato già del tempo dalla prima delusione perciò il vostro intuito vi dice di far finire questa pausa e di gettarvi in questa nuova in questa nuova situazione ecco qui abbiamo il pianificare questa forma di energia positiva che si sta per incanalare insinuare nella vostra vita e cercare appunto di far scemare questo isolamento che vi siete creati non solo per quanto riguarda le conoscenze ma proprio vi siete isolate per quanto riguarda le emozioni voi avete messo da parte tutte le emozioni che si possono provare nella vita appunto per avere una pausa da questa situazione malata da questa situazione tossica che avete vissuto adesso andiamo a vedere andiamo a vedere cosa c'è ecco qua qui abbiamo una bella imperatrice che ha voglia di crescere ha voglia di rinnovarsi ha voglia di avere delle nuove esperienze e ha voglia di essere proprio prospera di essere creativa di avere tanta abbondanza a livello proprio energetico di essere stimolata nella nella progettualità nell'intelletto abbiamo una persona che ha saputo temperare quello che è stata la situazione che ha dovuto vivere è stata una situazione abbastanza complicata da dover gestire però è anche vero che la temperanza cioè la moderazione l'armonia e diciamo la purificazione che avete ottenuto da questa situazione di stacco che avete provato vi ha sicuramente fatto ritrovare il benessere interiore benessere interiore che riuscirete a completare a completare completamente non si può dire riuscirete a completare perché qua io vedo un bel 10 di coppe e lo riuscirete a completare in tutte le sue forme abbiamo anche una bella regina di mazze una regina di mazze che ha deciso di ripulire tutto quello che è stata la situazione passata cioè proprio come la torre che diciamo ha asfaltato tutto quello che è successo nel passato sicuramente poi ripulendo le macerie ha dato e darà spazio a una nuova situazione di crescere di prosperare è stata proprio una vostra decisione quella proprio d'impeto proprio a livello energetico siete state proprio voi decise caparbie eccovi qua decise caparbie a lasciare quello che era la situazione tumultuosa la situazione che si era venuta a creare molto molto drastica e molto tossica come ripeto per voi e sicuramente lasciare le acque turbolente per un oasi di pace e di tranquillità che si affianca benissimo con il 10 di coppe anche se all'inizio anche se all'inizio c'era un po' di decisione avete deciso di prendere di indecisione scusate avete deciso di prendervi una pausa per riflettere cercare di capire qual è la strada giusta da intraprendere questo come dicevo prima vi ha portato una forma di stabilità e vi ha anche fortificato perché voi siete venute fuori in modo trionfale da questa situazione avete creato intorno a voi una stabilità che vi ha fatto stare bene vi ha fatto sentire più più energiche vi ha fatto riempire proprio di energia positiva vi ha fatto pianificare quello che sarebbe stato il vostro futuro tenendo sempre presente che in agguado ci sono sempre le situazioni da dover affrontare voi avete creato una forma di stabilità con questa pausa che vi siete creati che in questo momento adesso non dico che è messa in gioco però è diciamo sul limite del finire questa forma di isolamento questa forma di di pausa ecco perché abbiamo appunto la conoscenza di questa situazione nuova di questa persona nuova che vi porterà tanto tanto beneficio bene ragazze della seconda variante questa è la vostra stesa se vi è piaciuta vi aspetto nei commenti soprattutto se vi ritrovate io vi ringrazio per aver visto il video se vi è piaciuto lasciatemi un like e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto il mio indirizzo lo trovate giù nelle info io vi ringrazio vi saluto e ci vediamo al prossimo video grazie a tutti